Antapaura, ma fortunatamente nessun ferito. Una brutta avventura conclusesi senza gravi conseguenze quella vissuta ieri mattina da una famiglia nigeriana, una donna e i suoi due figli, di cui uno di appena due settimane, residenti a Bari nel quartiere Libertà. I tre sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco dopo che nella palazzina nella quale abitavano in via Fiera Mosca 87, a pochi passi dal tribunale, si è sviluppato un pericoloso incendio. In base agli elementi raccolti dagli agenti della squadra mobile intervenuti sul posto. Il rogo sarebbe stato originato da alcuni materassi accatastati e dati alle fiamme nell'androne dello stabile, occupato prevalentemente dai migrati. Il fumo sprigionato dall'incendio sarebbe arrivato rapidamente ai piani superiori, costringendo alcune famiglie ad uscire dal palazzo per evitare il soffocamento. Altri migranti, invece, hanno preferito mettersi in salvo raggiungendo il tetto. Gli unici a non riuscire a fuggire sono stati la donna e i suoi due figli, rimasti bloccati nel loro appartamento al terzo piano. A salvarli è stata una squadra dei vigili del fuoco intervenuta a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti della zona spaventati dall'intensa coltre di fumo. Una volta fatti uscire dallo stabile, i tre sono stati tenuti sotto osservazione dagli operatori del 118 e poi condotti in ospedale per ulteriori accertamenti. Indagini sono in corso da parte della polizia per risalire e responsabile del rogo.